La popolazione ha scelto l'avvocato Ettore Di Ventura a rappresentare il Partito Democratico alle prossime amministrative come candidato sindaco. Questo quanto è emerso dalle primarie di ieri? Sì, ieri è stata una giornata molto importante per la politica canicattinese. Per la prima volta abbiamo organizzato le primarie, si sono svolte le primarie e c'è stata una grande partecipazione. È stata la cosiddetta festa della democrazia, una competizione leale tra i diversi candidati e questo va a merito di tutti, delle elettrici e degli elettori che hanno partecipato a questa competizione, ma soprattutto dei candidati, tutti coloro i quali ci siamo messi in discussione in questa campagna elettorale per la scelta del sindaco che rappresenterà il PD alle prossime competizioni comunali. L'ospicio quindi è quello di conservare questo patrimonio, questo patrimonio di consensi che abbiamo acquisito con le primarie e di mantenere la maggiore coesione possibile tra tutti i candidati. Io desidero ringraziare quindi oltre le elettrici e gli elettori del Partito Democratico anche tutti gli altri candidati da Muratore, Alberto Tedesco e Antonio Marea per il contributo che hanno dato e per il contributo che vorranno dare in questa sfida per le prossime comunali canicattinesi. Ieri gli elettori sono stati 2.287 contro i 1.855 del 2011, un incremento dovuto a cosa? Alla dimostrazione che l'agenda ha voglia di fare politica e vuole essere coinvolta nelle scelte che riguardano la loro città e le primarie rappresentano un importante strumento per questo. Per quanto riguarda invece le alleanze, farete alleanze con il nuovo centrodestra UDC? È un discorso che valuteremo nei prossimi giorni e faremo la scelta migliore per la città di Canicatti.